Ciao a tutti ragazzi, con un video in questo video vi faccio vedere una review di uno smalto Avon di una nuova linea che si chiama Liquid Sequine. Questa nuova linea comprende alcuni smalti totalmente glitterati. Bisogna stare rapita da questo bellissimo smalto che è quello che si chiama Dazzle ed è davvero particolare. Ha una base semi trasparente, viola, con dei glitter più grandi sul viola fucsia e altri più piccoli color rame. Visto che ha comunque una base colorata e c'è viola, è meglio che vi faccia vedere l'applicazione su vari colori di smalti così possiamo vedere insieme la resa. Io infatti su un foglio sono andata ad applicare un viola scuro, un nero, un blu, un bianco, un color oro, un color pesca, un bordeaux e un rosso glitterato. Comincio a far vedere la resa sul bianco e come vedete ovviamente si vede molto la base viola con questi glitter sopra insomma. E questo è il risultato che abbiamo anche su delle unghie dove sotto non applichiamo nessun colore di smalto. Passiamo adesso al viola scuro dove il colore di base dello smalto viola viene annullato perché comunque l'abbiamo sotto. E quindi si vede semplicemente il colore molto intenso di base che nel mio caso appunto era un viola scuro con i glitter in riflesso sopra. Sullo smalto nero il colore di base viene completamente annullato e si vedono soltanto i glitter sulla base nera che sono bellissimi. Sullo smalto blu l'effetto è quasi simile al primo, comunque abbiamo sotto una base di colore smalto blu scuro. Quindi il viola dello smalto stesso si annulla leggermente e si va a mettiare con il blu e si vede semplicemente i glitter. Sullo smalto oro si vede la base glitterata però il colore stesso con l'oro viene completamente annullato dal viola dello smalto. Sullo smalto color pesca il colore di base non si vede per niente, è come se applichiamo lo che sia smalto su delle unghie naturali o su uno smalto bianco. Quindi la base viene annullata, sullo smalto bordeaux il colore viene intensificato e quindi diventa un borgogna scuro. Però per via della somiglianza dei glitter più grandi e dello smalto di base appunto un bordeaux, i glitter più grandi si spariscono come se non si vedono proprio perché comunque sono molto simili di colore. Quindi io vi sconsiglio di applicarlo sopra a questo colore ma vicino, magari come accent manicure, questo smalto dazel, mentre sugli altri unghie il bordeaux perché comunque si intona molto. Mentre sullo smalto rosso glitterato il colore del rosso viene completamente annullato, però si intravede la luminosità dello smalto in trasparenza sotto. Passiamo adesso un po' a come mi sono trovata con questo smalto. Allora, come vi avevo detto nel video unboxing, appena mi è arrivato mi sembrava molto molto denso, infatti pensavo che si stava seccando, mentre invece molto probabilmente è proprio la conformazione di questo smalto, che essendo molto molto pieno di glitter ha questa consistenza quasi gelosa, però nel senso sulle unghie è molto liquide e si stende davvero facilmente, insomma l'avete visto dal video, mentre nella boccetta risulta proprio così denso. Infatti tra un'applicazione e l'altra di unghie vi consiglio di chiuderlo, rimescolarlo bene e poi riaprirlo e riapplicarlo sulle altre unghie. La sciocatura è davvero molto rapida, per non avere una bella coprenza di glitter basta semplicemente una passata, se invece volete una coprenza proprio di colore viola, almeno due passate. Io avrei preferito che questo smalto fosse stato con una base trasparente, quindi soltanto i glitter, perché appunto dal catalogo non si vedeva che sotto c'era questo smalto di colore viola, quindi magari con una base trasparente uno lo può mettere su tutti gli smalti che desidera, mentre con questo viola di base è un po' più complicato. Il mio accostamento preferito è sicuramente quello sul nero e sul viola scuro. Il penino dello smalto è normale e all'interno ci sono anche le palline per mescolarlo meglio. All'interno della boccetta ci sono 10 ml di prodotto e la scadenza è di 24 mesi dall'apertura. La rimozione si sa come tutto anti-glitter, è un po' difficoltosa e la durata è davvero buona. E con questo è tutto, per qualsiasi domanda scrivetemici sotto i commenti, fatemi sapere anche se avete provato qualche altro smalto di questa linea. Io sarei chiusa di prendere quello oro, ma non lo so ancora se lo prenderò o no. Un grosso bacio e al prossimo video, ciao!